Ciao a tutti amici del canale e benvenuti in questo nuovo video. Juve Sassuolo finisce 2-1 per i bianconeri che dunque passano il turno e accedono alle semifinali di Coppa Italia. Una bella partita, ma prima di tutto mi sento di fare una cosa che non faccio mai, però questa volta è diverso. Volevo mandare un grosso abbraccio alla famiglia di Francone, il cuore bianconero che ieri ci ha lasciato e un grosso abbraccio alla famiglia e un invito che magari può sembrare idiota è quello di andarvi a cercare il suo canale cuore bianconero by Francone e iscrivetevi anche in maniera postuma per penso che sia un bel gesto per dimostrare l'affetto per uno youtuber che apprezzavo perché nonostante fosse lo youtuber bianconero più anziano, credo, almeno da quelli che conosco io più anziano, credo che abbia avuto molta lucidità, sempre molto garbo, simpatia, lucidità rispetto ad altre persone che, insomma, diciamo che è stato sempre una persona che ha dimostrato di saper amare la Juve come andava amata. Quindi un grosso abbraccio alla famiglia e, insomma, niente, andate a trovarlo sul suo canale, l'invito che vi faccio anche se è, secondo me è un gesto simbolico, sarebbe bello, iscrivetevi tutti e basta. No, buono. Questa è la premessa, ripeto, è una cosa che non faccio mai, ma qui è diverso e soprattutto la persona meritava veramente qualcosa del genere. Torniamo a parlare di calcio e lasciamo già parlare della Coppa Italia. Coppa Italia che oggi ha visto una bella sorpresa, l'Atalanta che viene eliminata con l'uomo in più dalla Fiorentina, buonissimo Fiorentina anche oggi. E quindi la Juve giocherà con la Fiorentina, sarà un bel, la Vlaovic Cup, no? Detto questo, bella partita oggi, nel primo tempo meglio Sassuolo, ma la Juve secondo me con qualche interprete è venuta a mancare, ma poi il suo l'ha fatto. Nel secondo io credo che la Juve abbia stradominato e meritasse la partita. Ho avuto un po' di paura, perché vantaggio di Dybala, pareggio loro, con un gran gol di Traoré. Poi sinceramente nel secondo tempo veramente ho avuto paura, perché quando ho visto Pegolo parlare di tutto mi ha ricordato molto un Juventus Cesena. L'anno del gol di Borriello, pochi si ricordano che l'andata abbiamo giocato con il Cesena finito 0-0, con Pegolo che era stato mostruoso. Siccome Pegolo quando vede la Juve si trasforma, diventa una sorta di Clark Kent e Superman, è incredibile, veramente. A parte che è un portiere che ho sempre apprezzato, tra parentesi. Pegolo ha fatto delle parate straordinarie e oltre a Pegolo si è messa una buona dose di casualità, perché è stata una palla flipper, palo, delict, bonucci, che non si è capito niente, la palla si è alzata. E lì sai, un po' di paura ce l'hai, perché quando vedi la palla che non entra così hai paura che prima o poi il calippone arrivi. Invece poi è arrivato Dusan, e Dusan è qualcosa di straordinario. Straordinario, un gol da fuoriclasse. E niente, soprattutto la cosa positiva, secondo me intanto una delle cose positive, abbiamo invitato i supplementari, perché sarebbe stato un problema in vista della partita di Bergamo di domenica. Abbiamo invitato i supplementari e abbiamo passato il turno. Ci tenevo tanto, come ho detto altre volte, la Coppa Italia resta una competizione dove dobbiamo dare tutto perché la possiamo portare a casa. E niente, e niente. Diciamo che oggi si è palesato un po' l'imprecisione sottoporta. Stavo vedendo qualche dato e oggi abbiamo tirato 16 volte dall'interno dell'area di rigore. Abbiamo fatto due gol, tra l'altro uno di Bala e uno di un'invenzione di Vlaovic, tra l'altro con deviazione. Quando fai così, insomma, devi segnare di più. Devi segnare di più, credo che sia la nota dolente di questa partita. Nonostante, nonostante, c'è stata anche una bellissima prestazione del Sassuolo che, lo ripeto, da quest'anno ha un allenatore e da quando ha un allenatore ha cambiato completamente fisionomia e mette in difficoltà tante grandi. E siamo contenti comunque di essere in semifinale, almeno io lo sono. Penso che il secondo tempo della Juve, per intensità, voglia, eccetera, sia da tener conto. Penso che la Juve comunque la partita abbia... Stiamo pensando anche i prossimi impegni. Adesso viene il bello, perché domenica giochiamo con l'Atalanta, a Bergamo, ed è una finale. Non dobbiamo perderla, parlando di quarto posto. Se qualcuno di voi crede ancora allo scudetto, dobbiamo pensare di vincerla. Perché se no, ciao Pep, come si dice qua a Milano, diciamo che dobbiamo pensare comunque di provare a vincerla o perlomeno non perderla a Bergamo. Anche perché l'Atalanta che ho visto oggi non mi sembra una squadra molto in salute, se devo essere sincero, ma domenica farà la partita della vita, ovviamente, anche perché oggi ancora si sono riusciti a lamentare di un gol regolare. Boh, boh, boh. Cioè, sinceramente, sono riusciti a lamentarsi con l'arbitro di un gol che oggettivamente era regolare. Il gol di Milenkovic è regolare. Poi va bene, comunque, Gasperini nella sua indole ha questa capacità di lamentarsi di qualunque cosa, di non accettare mai. Io ripeto, una squadra che prima arriva in casa e ce la gioca con l'uomo in più, vince 2-1 con l'uomo in più, un'espulsione che non c'era con l'uomo in più perché l'espulsione di non c'era, però al di là di questo, poi verdi 3-2. Ma che cavolo stiamo... cioè, ma di che parliamo? Ma di che parliamo? Va bene, va bene, va bene. Tralasciando questo, sarà Juve-Fiorentina, sarà quindi una semifinale che odio giocare, perché io la soffro quella partita in maniera terribile. E adesso vediamo, adesso vediamo. Diciamo comunque una cosa, che Di Bara, Morata e Vlaovic non solo sono complementari, ma devono giocare loro tre. Morata in questo momento è imprescindibile, ha cambiato la partita. Infatti l'uomo partita non lo do a Vlaovic, non lo do a Morata. Ciao a tutti ragazzi, al prossimo video. Ciao a tutti.